...e che parlava di un po' bella, non si parlava di un po' bella, ma mio papà mi ha insegnato la fine racconto e non si sapeva di insegnamenti, era la città della cultura greca, ho giocato tra l'esercizio e tra l'esercizio del mondo mia grande ispirazione, grazie per questo prestigioso riconoscimento un premio a Bagnanegra e un po' giochi a tutti i ragazzi, sarà il mio lavoro di esordio e io, nemmeno ci pensavo Uffa, sbrigati, dice Giocuffè, basta parole, sempre tante parole Basta parlare, sempre tante parole Allora, visto che ci siamo, stop a francese